Grazie dottor Morelli, grazie a tutte e a tutti per l'invito a Mercer. Abbiamo penso una passione comune, quella per le persone. I demografi studiano la popolazione, quindi people, population se volete, e voi gestite, reclutate, fate crescere le persone. Quindi non troverete troppo strana la mia passione. Vi porterei però subito sui contrasti della demografia. Troppo spesso quando si parla di demografia sembra di avere di fronte qualcosa di semplice e di relativamente circoscritto, la natalità per esempio in questo paese. Intanto non è così e se anche fosse così dobbiamo andare a analizzare i contrasti per pensare al futuro. Per esempio se guardiamo a livello globale, tema sostenibilità, si parla di sovrappopolazione. Si parla ancora, magari di meno di prima, ma c'è ancora questo tema. Siamo troppi. Poi andiamo in altri luoghi e improvvisamente siamo troppo pochi. Troppo pochi in Italia oramai è qualcosa che avete sentito e sicuramente anche nel vostro lavoro quotidiano forse sperimentate quando dovete attrarre qualcuno. ma non è solo l'Italia o il Giappone oramai, non è solo l'Europa, sarà la Cina. Quindi se volete il primo contrasto, troppi e troppo pochi, poi ci torniamo. Quindi non è così semplice, non è così scontato cosa vuol dire demografia, qual è il nostro futuro anche sotto gli occhi della demografia. Il terzo aspetto, questo anche qua, chiaramente non scoprono l'acqua calda, ma è l'invecchiamento. Poi dirò attenzione, la volto del discorso sull'invecchiamento è un discorso negativo, noi dobbiamo chiaramente un pochettino, siamo costretti o vogliamo ribaltare il tema. E il quarto tema di contrasto, che è indirettamente o più direttamente connesso al contrasto precedente, al tema invecchiamento, sono i movimenti migratori. Tra il divertito e il descrittore empirico, avendo lasciato la Gran Bretagna nel 2017, subito un po' dopo il referendum Brexit, con l'idea che finalmente abbiamo il controllo delle frontiere, quando sono usciti i dati sul 2022 e la Gran Bretagna ha avuto il record di migrazione netta, da 600-6.000 persone, non ho potuto che constatare che alcune forze globali sono ancora più forti dei referendum. Cioè la Gran Bretagna non ha mai avuto così tanti immigrati come nel 2022. L'orologio, qualcuno potrebbe aver già visto questo tema, se possedete questo, ricordatevi che non lo possedete, ma lo state tenendo per le generazioni future. Perché l'orologio? Perché l'orologio ha tre lancette, e questa è un'analogia di Sovy, il fondatore del grande istituto demografico francese. L'orologio ha tre lancette, una si muove velocemente. La politica, la politica essenzialmente, se volete, già prima, Sovy aveva tirato fuori questa analogia, già prima dei social media, già prima di Trump che improvvisamente tira fuori con un tweet qualcosa e ci cambia il corso dei mercati, già prima di qualche presidente che tira fuori una motosega improvvisamente in tv. Quindi la politica si muove veloce, lo sappiamo. L'economia, voi, noi, l'economia si muove come la lancetta dei minuti. Sappiamo che c'è bisogno di programmare, però vediamo i movimenti dell'economia. Ecco, Sovy diceva, giustamente, anche se poi vi darò qualche caveat, che la demografia, o se volete usare il tema di oggi, il capitale umano, si muove spesso a livello macro con la lancetta delle ore. Cioè, una velocità che è inesorabile, ma non visibile immediatamente quando guardiamo l'orologio. E questo cosa implica? Che spesso ci concentriamo su quello che si muove velocemente, dimentichiamo quello che si muove lentamente, ma che poi ha un impatto sul passaggio del tempo. E quindi provo a declinare la demografia attraverso questo tipo di ottica. Cioè, la demografia non solo come la mia passione, ma come un modo per guardare al futuro. Un modo che ci consente, un metodo che ci consente di andare a vedere quali sono gli scenari plausibili e come intervenire per andare nella direzione giusta. E qua tocco tre temi. Il primo, l'invecchiamento della popolazione e la cosiddetta transizione demografica, qualcosa che avviene lentamente, lancetta delle ore. Il secondo, il vostro tema, capitale umano. Il terzo, cosa succede nel lungo periodo. Primo tema, transizione demografica. Se volete, i demografi, vediamo se riesco ad andare avanti, i demografi devono raccontare una storia che va sempre raccontata anche alle generazioni più giovani. Essenzialmente siamo nel momento in cui l'umanità ha i livelli di benessere migliori. Avete due modi per misurare questo benessere. La durata della vita o il pil pro capite. Quando però andiamo a chiedere alle persone, questa è un'indagine un po' datata agli italiani, molti pensano che stava meglio prima. E questo, se volete, fa parte di, qua ci saranno, immagino, un po' di psicologi, fa parte di un po' l'idea, si chiama Rosie Retrospection, retrospettiva Rosea. Del passato tendiamo a dimenticare il negativo e tendiamo a ricordare il positivo. Oppure tendiamo a pensare che quando avevamo 20 anni o 18 anni il mondo era più bello. La musica chiaramente è più bella, quella dei nostri 18 anni. Immagino che qua siano tutti sopra i 18 anni. Non so se... Ecco, la musica migliore è chiaramente quella. I momenti migliori della vita sono quelli e rimarranno quelli. Diciamo che ogni tanto tendiamo a confondere quando magari arriviamo a 48, a 58, a 68 anni, tendiamo a confondere i nostri 18 anni con come stava l'umanità 50 anni o 40 anni fa. E quindi il demografo cosa vi dice? Beh, dato di base, quanto dura la vita? Cent'anni fa durava circa 49-50 anni. Ok, 50 anni in media. La differenza di genere non era ancora così grossa come oggi. Oggi siamo 83 circa. Cosa vuol dire? Circa un terzo ogni anno. Un terzo di anno. Ogni giorno otto ore sono gratuite dal punto di vista dell'invecchiamento. Questo a livello italiano. A livello globale stessa progressione. Quindi non si stava meglio prima. Pensare al futuro è molto più plausibile oggi rispetto a quanto non fosse ieri. Questo è fondamentale. Attenzione che se poi andiamo a vedere le stime del PIL che sono molto difficili, il PIL pro capita a livello globale è comunque al momento più alto della storia dell'umanità. Poi sappiamo che c'è un allarme di disuguaglianze dentro i paesi. Ma se andiamo a guardare a livello globale il mondo sta bene. Importante guardare i fatti ogni tanto. La cosiddetta transizione demografica è il passaggio da un mondo in cui si fanno tanti figli e si vive una vita breve. Quindi non ci sono gli anziani. Se nascono in tanti e si muore velocemente non si arriva a diventare anziani. A un mondo in cui si fanno pochi figli e si vive a lungo. E a questo punto esistono gli anziani. Ma gli anziani storicamente erano già i quarantenni, i cinquantenni. Oggi ci possiamo permettere di pensare a età diverse. Nel frattempo, siccome il calo della mortalità precede il calo della natalità, la popolazione cresce. Essenzialmente da 1 a 8 miliardi. Quindi, se volete, 7 ottavi di questa sala non sarebbero qua senza la transizione demografica. Ci piace la transizione demografica. E l'invecchiamento della popolazione è una buona notizia. Perché l'alternativa non è particolarmente piacevole. A livello mondiale siamo il 10% di popolazione ultra 65. Questo è, se volete, un trend che di nuovo è una buona notizia. Sarà una sfida. Tante buone notizie sono le sfide. anche quando arriviamo al numero 1 nei ranking, a volte a noi non capita, però magari la mia squadra di calcio è capitato, poi più di così non puoi fare. È una sfida. Però è una buona notizia. Chi l'ha già visto non faccia lo spoiler. Qual è il paese più anziano al mondo, se contiamo la quota di ultra 65? Giappone, Italia, Cina, Stati Uniti. Diciamo, Giappone, Italia, siete vicini. Numero 1 al mondo, adesso il Principato di Monaco con il 36% di ultra 65 anni. Che tra l'altro vi fa anche capire che in realtà attenzione che in alcuni contesti ultra 65 anni non denota diciamo disagio sociale. Non associamo al Principato di Monaco disagio sociale. E poi poi ci siamo noi dopo il Giappone 24, 25 24 e mezzo adesso dipende se intersezione attenzione che di nuovo questa è una buona notizia sono i dati della World Bank che hanno un sito in cui fanno vedere anche i trend. Quindi prima notizia invecchiamento è una buona notizia? È una sfida? Ce ne occuperemo. Secondo aspetto capitale umano come la demografia vi aiuta a vedere il capitale umano? Beh lo sapete già voi essenzialmente in una azienda se andate a guardare l'anzianità tra cinque anni chi rimane avrà cinque anni in più di anzianità. Questa è la legge d'oro della demografia. Anche se poi non sono invecchiati fisicamente di cinque anni ma solo di due terzi di questi cinque anni perché aumentando la speranza di vita aumentano fisicamente diciamo la loro età fisica solo di due terzi di questo periodo. Capitale umano perché è importante? Perché è importante per il nostro paese e adesso qua ci sono molte grandi aziende. Allora intanto siamo purtroppo in una posizione imbarazzante come numero di laureati. Lo sapete probabilmente però è bene dirlo ed è bene capire che qua l'orologio è collocato sulla lancetta lenta cioè il rischio è il dire non ci possiamo fare niente non facciamo niente e tra 40 anni saremo nella stessa situazione. Vi faccio vedere una prospettiva di qualche paese che invece ha cambiato. Allora l'Italia l'Italia è diciamo in una zona calcisticamente buona tra Brasile Messico Italia Costa Rica e Colombia ok dell'Ocse anche diciamo luoghi dove ci si diverte quindi bene 30% di laureati tra 18 e 35 anni 34 sulla destra estrema Corea 70% lo dico sempre alle aziende manifatturiere che dicono abbiamo bisogno di professioni abbiamo bisogno che la scuola formi qualcuno da impiegare adesso dicevo allora noi non lo facciamo come università perché vogliamo costruire delle professionalità per i prossimi decenni magari a voi serve poi magari spiegatemi perché la Corea che è una potenza manifatturiera o la Germania che aveva pochi laureati è andata invece a laureare 70 o 50% dei giovani e noi siamo rimasti a discutere del professionale ok scusate se provo a fare un po' di entrate nel vostro terreno però penso che questo sia importante il rischio di fermarsi a discutere del professionale dell'istituto tecnico è rimanere qua ok che cosa è successo questa è la cosiddetta piramide o nave per età divisa per titolo di studio questo è il Canada in 50 anni di nuovo che cosa succede se non cambiamo che cosa succede se cambiamo il Canada il blu scuro sono i laureati non ne aveva tanti nel 1970 io sono il 70 ho preso questo ma diciamo si poteva prendere qualsiasi cinquantennio oggi invece sulla destra vi ricordate che il Canada stava molto in alto cos'è un mix di politiche interne e migrazione qualificata ok Canada arriva al vertice nel frattempo la popolazione cresce da 21 a 37 la Corea la Corea è interessante perché ci batte come bassa natalità oggi è il paese con meno figli per coppia al mondo manifattura diciamo sicuramente tante questioni demografiche non una questione di livello di qualifiche della popolazione ma nel 70 la Corea era una popolazione molto giovane poi c'è stato un forte calo della natalità non c'erano praticamente laureati tra l'altro i pochi che c'erano erano quasi tutti maschi e questa è la situazione nel 2020 sulla destra dove il blu lo vedete soprattutto nella fascia bassa cos'è successo? il calo della natalità è stato usato per mandare tutti a scuola prima perché per andare all'università bisogna andare a delle scuole che ti diano la prospettiva all'università e poi titoli di studi universitari perché è importante la lente demografica? perché ovviamente questo cambiamento ci mette poi decenni per entrare al regime cioè se io riformassi la scuola italiana oggi a voi i risultati arriverebbero tra 10-20 anni però ciò non vuol dire che non si debba fare continuare a dire abbiamo bisogno domani della professionalità da impiegare e fare solo quello che sicuramente è importante e continuate a farlo fare solo quello ha il rischio di far perdere di vista la lancetta corta questa è l'Italia l'Italia ha avuto un calo delle nascite poi ci torniamo come sapete ormai e allo stesso tempo ha tenuto un livello di titolo di studio medio basso e quindi facciamo confronto il blu scuro il blu scuro tra l'altro non si diffonde neanche in modo particolare tra i giovani quindi il futuro del nostro capitale umano è comunque in parte già scritto qua per i prossimi decenni poi se volete qualcuno si può inventare degli ottimi certificati da dare per dire ti do una laurea qua ci sarà seriamente da discutere cosa fare sugli adulti su giovani adulti poi torniamo su questo tema terzo tema scenari a lungo termine il contrasto se volete Italia Europa resto del mondo provo a andare velocemente perché questo è un tema un po' più prettamente demografico ma non è rilevante per noi le Nazioni Unite fanno degli scenari al 2050 al 2080 lo fa anche l'Istat vorrei solo attrarre la vostra attenzione su due di queste righe questa è la popolazione in miliardi 2020 2050 quindi diciamo per i demografi 30 anni è anche un orizzonte plausibile da 8 miliardi a 10 quindi continua a salire la popolazione la prima riga è Africa subsahariana lo scenario delle Nazioni Unite da un miliardo a due miliardi ok confrontiamola con Europa Nord America da un miliardo a un miliardo questo è lo scenario plausibile o meno vi dico dipende perché se lo consideriamo esogeno e inesorabile succederà questo ovviamente molto dipenderà da eventuali riequilibri migratori è plausibile questo raddoppio della popolazione dell'Africa subsahariana questi sono i top 10 nei paesi per farvi vedere che è plausibile vi faccio vedere un esempio sul passato l'esempio si chiama Nigeria qua 1990 94 milioni di abitanti 2022 216 milioni 32 anni ben più che raddoppiato quindi è plausibile anche con i ritmi demografici di oggi avere una crescita importante poi in tutto il mondo la popolazione sarà più anziana persino nell'Africa subsahariana quindi oggi se vi ricordate siamo 24-25% in Italia 10% globale dovremmo arrivare al 16% globale quindi la lentezza cambiamento demografico l'Italia paese leader nell'invecchiamento qualcuno di voi opera in multinazionali soluzioni trovate in paesi più invecchiati ovviamente sono esportabili in tutto il mondo abbiamo un gap educativo e qua penso che si debba andare sia con la lancetta lenta e pensare alla base della piramide o nave demografica sia sugli adulti ma non con soluzioni semplici di mi invento delle fantomatiche università che vendono dei scusate o diciamo danno dei certificati in modo abbastanza semplice dobbiamo pensare alle competenze voi lo sapete avete bisogno di questo e quindi non possiamo non pensare oggi al domani oltre all'ancetta lenta direi perché dobbiamo anche considerare l'aspetto veloce perché la demografia italiana non è un destino segnato è importante considerare questo e parlerò soprattutto di migrazione ma ovviamente diciamo anche quello che abbiamo toccato finora in temi capitale umano scuola università va discusso queste sono le dinamiche demografiche del paese sto guardando che sto andando un po' lento rispetto ai tempi che mi avevate dato quindi me ne scuso ma adesso velocizzo dinamica demografica del paese nascite morti immigrati negli ultimi 23 anni essenzialmente siamo arrivati ma questo probabilmente avete sentito in media a livello più basso delle nascite da quando abbiamo le statistiche sulla diciamo dall'unità d'Italia i decessi sono attorno a 700.000 nascite meno di 400.000 ci sono tanti immigrati più o meno quanti sono innati in un anno quindi la popolazione sta cambiando velocemente l'Italia è diventata chiaramente come sapete anche la vostra azienda è un paese di immigrazione questi sono gli scenari dell'Istat quindi ci aspettiamo un paese più anziano ci aspettiamo sempre meno persone nel sud perché la demografia poi viene il cambiamento demografico esacerbato e collegato positivamente alle dinamiche economiche quindi che cosa succede attenzione lancetta corta lancetta lunga attenzione che alcuni di questi temi che hanno a che fare col capitale umano come sapete vengono vissuti come emergenza continua emergenza perma emergenza potrei dire per esempio questi sono gli stati di emergenza proclamati dai governi italiani come vedete tutto bi tripartisan c'è dentro ci sono dentro un po' tutti i tipi di governi ogni tanto emergenza immigrazione ok nel frattempo calo delle nascite nel frattempo bisogno di capitale umano emergenza immigrazione salto la parte sulla scuola e sui NIT vi faccio vedere il caso di un paese che e poi magari torno se ci sono se abbiamo tempo per le domande vi faccio vedere un caso di un paese che ha affrontato l'emergenza migrazione cambiando la lancetta la Germania la cancelliera Merkel nel 2015 ha deciso di aprire essenzialmente le frontiere come probabilmente sapete rifugiati siriani un anno di immigrazione netta pari a 1 milione 200 mila su 80 milioni di abitanti ha un pochettino cambiato la traiettoria demografica ovviamente poi occupandosi con tante partnership pubblico privato di una pianificazione dell'integrazione dei migranti che è sicuramente adesso best practice questo è un po' l'Italia dove abbiamo una legge che conoscete bene la legge Bossi-Fino almeno penso che alcuni click day sarà qualcosa che molte aziende sono interessate era fatta per un mondo che non c'è più ci sono allora bassa natalità e chiudo bassa natalità a livello italiano questi sono i nati a livello mondiale giusto per enfatizzare torno al contrasto iniziale il numero di nati in migliaia quindi ho segnato il 2012 144 milioni sono stime delle Nazioni Unite perché dovrebbe essere l'anno della storia dell'umanità con più nati prima continuavano ad aumentare anche con una popolazione che aveva un numero medio di figli per coppia in calo però c'erano tanti potenziali genitori e poi iniziano a calare lentamente cosa vuol dire questo che se in Italia abbiamo il calo delle nascite e pochi giovani a livello mondiale siamo nel momento di se volete peak child peak youth cioè i nati nel 2012 sono la corte più numerosa della storia dell'umanità avranno 18 anni nel 2030 ok quindi siamo in un momento pieno di potenziale capitale umano a livello globale penso sia importante saperlo va beh poi se volete lascio questo lascio questo aspetto e concludo vi ringrazio chi fosse interessato c'è un libretto trascabile che può essere consultato scusate per lo spot grazie grazie a tutti